Ho una ricetta per voi, senza farina e con lo zucchero alternativo, ideale per chi vuole i biscotti a colazione o per chi vuole uno spuntino, per i vostri bambini anche. Adesso ve la spiego. Ecco qui gli ingredienti per la nostra ricetta. Partiamo con due uova e 50 grammi di eritritolo. L'eritritolo è uno zucchero che non andrà ad atterrare il nostro indice glicemico. Aggiungiamo poi l'olio di cocco, 100 grammi. È ricco di MCT ed è un grasso buono, ottimo per la chetogenica. Il nostro però è uno stile chetogenico, non è una dieta chetogenica. Quindi 70 grammi di farina di mandorle e 70 grammi di farina di cocco. Aggiungiamo poi 5 grammi di lievito per dolci. E un po' di cannella. Infine l'aroma di vaniglia. Vedete voi quanto metterne. Mescoliamo bene il tutto e impastiamo un po'. Uscirà un impasto come quello dei frollini. Goccia di cioccolato, guardate voi la quantità. Mi raccomando, cioccolato fondente. Controllate sempre le etichette che non ci siano zuccheri aggiunti. Se l'impasto risulta ancora un po' appiccicoso, lasciatelo riposare qualche minuto in frigorifero, in modo che l'olio di cocco si addensi. Utilizzando il dosatore per gelato, avrete la dimensione dei vostri biscotti uguale, in modo semplice. Ora pronti per il forno, qualche minuto. Ed ecco qua. Seguitemi per le prossime ricette e scrivetemi nei commenti se vi sono piaciuti.